Com'è questa torta? Che cos'è? Cheesecake? La dovresti mettere in microondi per scongiare. Ui, da tagliare a pezzi. E come? Vedi? Anche quella di Mirko. Mirko, la tua pronta è? Un buon colpo di materno glielo diamo. Vedi? E poi a mano va a mangiare. Si vuole la tua! Vedi? Non dico la gomma. Non ti metto il piano. Non ti metto il piano. Non ti metto il piano. Ehi? Si vuole. L'ultima trattagliata. 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 È dura. Trattagliata, trattagliata. Ecco il braccio. Rosso. È dura. Gusta te. Gusta te. Gusta te. Questa me la mangio io la stessa. No mamma. È buona quando è qui. Non vuoi un pezzo che tu metti? Non sta sentendo male. Vola, vola. Scongiare. Vole scongiare. Però... Piccio ha troppettato. Vedi? Bardansella, la torta. Massimo, dammi quella sigaretta. È dura eh. Va a tagliare. Non si può fare. No, non li vuoi. Il martello è un piatto? Martello, non scappi. Hey! Ehi! Scusa. Scusa. No, vi sè a spiegare.